Tra volta e uccisa da un treno merci in corso, è successo ieri sera a Trani a perdere la vita una donna di 50 anni, una clochard conosciuta da molti e che non avendo una casa nell'ultimo periodo aveva scelto proprio la stazione ferroviaria come rifugio. Ieri sera probabilmente era intenta a raggiungere quel posto dove avrebbe trascorso la notte quando è caduta oltrepassando la linea gialla di delimitazione. Secondo alcuni testimoni potrebbe essere scivolata sul binario 3 e non avrebbe fatto in tempo a rialzarsi. Il treno merci che correva non è riuscito a fermarsi e l'ha travolta. La donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, gli agenti della polvere insieme a quelli del commissariato di Trani, carabinieri e polizia locale. Sull'accaduto si indaga per capire se la cinquantenne abbia perso l'equilibrio o se si sia asporta volontariamente. Ieri pomeriggio poco prima della tragedia era stata vista in piazza della Repubblica dove spesso trascorreva il tempo con la sua solita bottiglia di vino. La donna da tempo era stata segnalata ai servizi sociali che più volte sono intervenuti per aiutarla, mentre il personale del 118 spesso le prestava soccorso per malori legati soprattutto alla sua dipendenza da alcol.